Il giorno più lungo per gli imputati eccellenti del processo Sanitopoli, che nel luglio 2008 smantellò la classe dirigente aburzese, facendo finire in carcere, allora presidente della regione, Ottaviano del Turco e alcuni suoi assessori. Questa mattina, dopo l'ultima e breve ringa dell'avvocato Cristiano Valentini, che difende l'ex manager dell'ASL di Chieti, Luigi Conga, i giudici della Corte di Appello, Luigi Catelli, Luigi Cirillo e Armanda Servino, sono entrati in Camera di Consiglio intorno alle 10.30, la sentenza attesa nel pomeriggio. E una cosa è certa, quella che sia farà discutere. Al centro della vicenda una somma pari a 15 milioni di euro di presunti tangenti, versate in misura diversa agli imputati, da Vincenzo Mariangelini, ex patron della sanità privata abruzzese, condannato a tre anni e mezzo, grande accusatore di Del Turco, in cambio di un trattamento di favore nelle politiche di riduzione della spesa sanitaria intraprese dalla regione. Del Turco, condannato in primo grado a nove anni e mezzo, era oggi presente in aula, assieme al figlio. Si è detto sereno, altro non ha aggiunto, poi è ripartito alla volta di Colle Longo, dove attenderà la sentenza. In aula c'era anche Bernardo Mazzocca, ex assessore alla sanità, condannato a due anni, e l'ex capo gruppo regionale del PD, Camillo Cesarone, condannato a nove anni. Gli altri accusati sono, lo ricordiamo, Luigi Conga, nove anni, l'ex parlamentare del PD, Sabatina Raku, quattro anni, l'ex realitario dell'ufficio di presidenza della regione, Lamberto Quarta, sei anni e sei mesi, l'ex assessore alle attività produttive, Antonio Boschetti, quattro anni. In sede di appello, il procuratore generale Ettore Picardi ha chiesto però pene più miti e la prescrizione per il grande accusatore e imputato Vincenzo Angelini. Ed il Turco e gli altri imputati confidano però fortemente che oggi pomeriggio la sentenza di primo grado venga ribaltata. Nelle loro accolorate a ringhe, gli avvocati difensori hanno ribadito che quella sentenza non è infatti tenuta logica, l'hanno definita un campionario stupefacente di insensatezze, senza prove a supporto, visto che non c'è traccia delle presunte mazzette e tutto si basa sugli improbabili racconti di un imprenditore privato della sanità che temevi tagli del budget all'intero settore e più ferri controlli che Del Turco stava imponendo. Al contrario, ha ribadito l'accusa per voce del procuratore Picardi, anche senza riscontri patrimoniali del passaggio di denaro, gli elementi probatori sono solidi e sufficienti.